Ciao a tutti, io sono Genia Bemento sul mio canale, oggi vi farò vedere la mia collezione di smalti ho due scatole di queste della Sephora e sono piene, scoppiano così vi parlerò un po' della qualità, dei colori e così via andiamo iniziamo eccoci qua, cominciamo con due smalti della L'Oreal questo che indosso io 550 al rosso e quello trasparente che idrata a una meraviglia le unghie resistono sulle unghie, infatti vedete ce l'ho applicato io adesso sulle unghie perché il rosso è Natale è Natale! un altro smalto interessante è questo della Deborah Gel Effect devo dire che non è malvagio ma non è neanche il top ecco diciamo così andiamo avanti abbiamo qui dei smalti della Shaka che sono fantastici resistono tantissimo sulle unghie e poi hanno dei colori super super fantastici sono glitterati poi hanno dei bicolori metti un colore se ne vede un altro è fantastico poi abbiamo questi della Kiko che diciamo che non sono il massimo ma non fa un manco schifo la Kiko ha più tipi di smalti ci sono quelli da 1,99 mi pare che non sono buoni che sono proprio scarsa qualità invece i Velvet Satin sono più qualitativi resistono sulle unghie di più quindi più comprabili questo è della bella oggi che su quei smalti là che magari usavamo da piccoli che puzzano un sacco questo è dell'Essence che è un buon smalto regge a parte che i colori chiari reggono abbastanza questo è Astra lo trovate nei negozi cinesi più o meno e diciamo che non è proprio male 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 questo è del Flor Mars è buono ma puzza un sacco il mio preferito è questo della Wicon e ne ho più di uno con tanti glitter e niente a me mi piace il glitter se non si è capito perché nel nostro sangue penso nel sangue di tutte le donne scorre sangue di Merlin Monroe ecco parlavo di questo smalto della Kiko Neonna Marea mi direte perché lo hai comprato se fa schifo lo compravo per i colori poi se passi lo smalto trasparente sopra regge di più questo è uno smalto ce ne sta un altro della Rimmel un gel resiste un sacco ma tantissimo quindi una buona qualità questo è quello questo è quello trasparente della Kiko che è buonissimo per le unghie idrata alla grande e indurisce anche l'unghia vedete ho trovato un altro smalto della Wicon ci sono più di uno identico questo è della Kiko anche questo e sono quelli un po' meglio di quell'altro resiste di più e quindi anche un bel colore ci sono anche dei matt che tra un po' vi farò vedere eccolo questo è uno di quelle matt satin satin mi pare si chiama satin sì però poi sulle unghie rimane come opaco così il miglior smalto è quello della KoliStar questi hanno una lunga 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 durata sulle unghie anche questo di bei colori ci sono anche la confezione quella più piccola quindi uno se vuole provare questo è uno smalto comprato dai cinesi che fa schifo di brutto l'ho comprato per provarlo è gel ma questo senza la macchinetta là dell'ultravioletti non funziona un altro smalto della Kiko rosa perché noi siamo pink questo è un altro brillucigoso smalto della Wicon bella oggi che vi ho detto sì sono carini sulle unghie ma puzzano come che un altro smalto della Kiko scusate la palestra mi uccide sono uscita sudata da lì e ho preso un colpo di freddo questo è uno sbianca unghie avete visto quando avete le unghie un po' giallogne questo aiuta a sbiancarle ma non ha fatto un cazzo e qui altro smalto della Kiko più di uno c'erano una marea tanti li abbiamo pure buttati perché compravamo e poi col tempo si induriscono o finiscono e così vedete quanti della Kiko questi sono quelli la che costano poco ma che comunque sulle unghie non durano molto questo invece è sempre della collezione satin che resiste di più anche questo bianco resistono molto molto di più sulle unghiette anche questo nero molto carino gel effect sempre della bella oggi si sa un po' di gel però non è qualitativo questo un altro smalto buono è quello della pupa con i piccoletti le trovate acqua sapone tante volte fanno anche le offerte sono carini perché comunque resistono di più questo è un smalto della Kiko perfect gel che è buonissimo un altro smalto della Koli star brillantina questo è un smalto della Kiko che ha un tipo aurora boreale così c'ha più colori dentro questo è il super gel della Rimmel che ve l'ho fatto vedere all'inizio che si passava prima uno poi l'altro per dare quell'effetto i smalto Icon sono un pochino meglio di quelle della Kiko naturalmente il Koli star rimarrà il mio preferito ever forever together sei bellissimo c'è Matteo che dice che è bello questo è uno smalto che non ricordo dove e come l'ho comprato ho la vaga impressione che l'ho comprato tipo tre anni fa in Spagna quanto durano i smalti? hanno una scadenza? se qualcuno lo sa magari me lo scriva nei commenti perché davvero non ne ho idea altri smalti Kiko Kiko mi dovrebbe dare la percentuale per quanti smalti ho comprato e quando ne sto parlando a ogni video ogni volta è Kiko 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 andiamo avanti andiamo avanti sciacca sciacca è bestiale mi piacciono i colori da morire perché non sono gli stessi colori noiosi ha proprio delle tonalità particolari no è bello 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 ecco fatto fregata dalla palestra no dove prego oggi sono andata stamattina ad allenarmi stasera a fare pure zumba quindi un po' più sudarela passiamo alla seconda scatola questo è uno smalto che puzza di petrolio proprio di benzina terrificante poi te lo metti non si stacca più dalle unghie ci puoi mettere quintali di acetone niente niente questo è uno smalto dell'Avon che non so se Rossella ha provato hai provato quello bianco dell'Avon? no quindi non sappiamo dirvi se è un buon marchio Wicon si ci piace ci piace Kiko questo è uno smalto da One che è molto buono anche questo resiste parecchio sulle unghie i smalti della Nick no no soldi buttati perchè fanno schifo so peggio di Kiko quindi colistar forever però sicuramente c'è tanto tempo che ce l'ho devo controllarli perchè sicuramente qualcuno non è più buono si è indurito questo è uno smalto della Rimmel London che questi sono buoni ragazzi è una buona qualità sciacca guardate che bei colori eh pupa bello il pupa resiste anche questo è uno smalto della Melchior che non gli da 2 lire invece è buono c'è una bella consistenza sulle unghie e resiste anche questo è uno smalto della S che costa un sacco di soldi ma per me non va eh sì non vale la candela cioè no 10 euro per uno smalto del genere no questo è ancora intatto nessuno l'ha aperto c'ha ancora l'etichetta tutto imballato quindi non potrò mai dirvi se è un buon smalto lo proverò e ve ne parlerò in un altro video lasciate nei commenti qual è il vostro marchio preferito lo smalto preferito così ho anche io ispirazione da voi altri smalti pupa il rossetto che indosso è della Wicon non ricordo il numero ma è bello questo è dei smalti della Deborah Milano questo è un idratante per le unghie all'aloe vera qua ho questo double effect della pupa quello con la calamita che faceva le unghie a righe è molto carina non male questo è un altro smalto della pupa vabbè avete capito cosa mi piace invece queste sono delle cosette che si attaccano sulle unghie spero che il video vi sia piaciuto non dimenticate di lasciare un like di iscrivervi al canale di attivare la campanella di seguirmi anche su Instagram Gianina non è mio nome ma su Instagram sono Parmigiamo insieme ciao ciao